Ciao ragazzi, dunque la Juventus è il brand numero uno di Instagram L'importanza di questa cosa è incredibile, perché non è che stiamo parlando del brand come squadre Diciamo che sarebbe una cosa normale se la Juve, squadra più seguita d'Italia, diventasse il brand più sportivo, più riconosciuto in Italia Questo già è così Sì, su Instagram la Juve da molto tempo è già la squadra più seguita di Instagram Ma qua si parla di brand, quindi la Juve è avanti a Gucci, la Juve è avanti alla Ferrari, la Juve è avanti a tantissime aziende italiane La Juve è una realtà anche social E quando si dice che l'operazione Cristiano Ronaldo in caso di non vittoria della Champions sarebbe un fallimento Bisognerebbe snocciolare questi numeri L'operazione Cristiano Ronaldo è una grandissima operazione e sarà una grande operazione nonostante magari la Juve riesca a non vincere nulla a livello europeo con lui Non cambia assolutamente niente L'azione, il modello, come posso dire l'operazione di marketing Ronaldo e Juve è stata una delle più grandi, genialate di marketing della storia del calcio Quindi grande Juve, primi anche su Instagram, primi come brand italiano Questo non è una cosa da poco Ve ne accorgerete e ce ne accorgeremo sempre di più andando avanti Perché ancora, secondo me, essendoci dentro non ci rendiamo conto di quanto la Juve sia cresciuta nel corso di questo periodo Ve ne renderete conto e ce ne renderemo conto tutti Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darei appuntamento per i prossimi del canale Ciao a tutti